Filler, effetto lifting, sparati senza ago o iniezioni vere e proprie di acido ialuronico sottocute eseguite da falsi medici o semplici artigiani. Un fenomeno esploso ovunque negli ultimi mesi, anche in provincia di Lucca, dove si moltiplicano i casi di pazienti che si rivolgono a medici estetici per riparare i danni provocati da trattamenti improvvisati, eseguiti spesso in centri estetici, dal nutrizionista o dal fisioterapista. A lanciare l'allarme è lo specialista via Regino Emilio Betti, docente universitario, presidente della commissione scientifica nazionale di tutela medici estetici, che interverrà al 42esimo congresso nazionale del settore in programma a Roma questo fine settimana, per denunciare la giungla dell'estetica, favorita dalla facile disponibilità di dispositivi e di prodotti su internet, dove dilagano anche i video tutorial per il fai-da-te. Purtroppo sono molto diffuse, anche sul nostro territorio della provincia di Lucca, sono molto diffuse, ma c'è un boom, c'è un aumento per fare le iniezioni con o senza ago che noi vogliamo, noi dobbiamo fare prima una visita. La visita medica deve essere approfondita, si deve vedere se ci sono controindicazioni, se ci sono malattie dermatologiche, se ci sono malattie autoimmunitarie, se ci sono allergie, se ci sono ipersensibilità, perché poi quando il danno è fatto sta ai veri professionisti poi doverlo riparare e vi assicuro che in alcune condizioni non è facile. Un far west dovuto anche ad un voto normativo, per questo da Viareggio parte la richiesta di un intervento del Parlamento. Noi di Tutela Medici Estetici a livello nazionale abbiamo deciso di fare una campagna di informazione verso i pazienti, ma non soltanto, anche di riunire le nostre forze di medici estetici con una professionalità elevata e di chiedere un vero e proprio disegno di legge in tutela, in difesa dei pazienti.